Bella raga, buonasera, dunque innanzitutto mi scuso per la qualità del video perché non sto a casa mia, sono a Napoli e dunque c'è questa luce che sembra che abbia qualcosa di... che sia quasi in paradiso, però ragazzi scusate il video verrà così, non ci posso far nulla, mi devo adattare, non sto a casa mia, sono a Napoli già mi sto preparando per i big match, anche se gioco a Torino, a me piace fare le cose al contrario loro vanno a Torino, la partita è venga a Napoli va bene, fatto questa premessa, speriamo che sia una bella partita innanzitutto comunque l'argomento di oggi è la squalifica di Cristiano Ronaldo per una giornata prima squalifica di Cristiano Ronaldo in carriera dopo 154 partite è arrivata la prima espulsione di Ronaldo in Champions League guarda caso, corre al Z comunque, è niente, una giornata di squalifica, la Juventus non presenterà ricorso perché la Juventus presentava ricorso qualora fosse superiore alla giornata di squalifica appunto la decisione del giudice sportivo quindi una giornata salterà la prossima sfida del 2 di ottobre dunque di martedì, mercoledì prossimo martedì prossimo contro lo Young Boys alle 18.55 all'Allianz Stadium ci sarà invece da ex contro il Manchester United all'Old Trafford dunque Manchester United di José Mourinho che è in piena lotta interna con Paul Pogba e dunque io spero in un po' back, in po' back come si può dire? dunque speriamo che Mourinho resti sulla panchina del Manchester che è Pogba ma chissà, verrà comunque una giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo in più, altra decisione della UEFA importante dalla prossima Champions League, dunque stagione 2019-2020 ci sarà l'introduzione del, o della, come dire ho, far video assistant refer meno ora era quasi ora ci sarà già dai preliminari della prossima stagione non ci sarà quest'anno, come ho inteso da Seferino e anche dagli ottavi in poi e ci sarà anche all'Europeo 2020 dunque anche la UEFA si è convinta di utilizzare il VAR dopo l'ottimo mondiale dove il VAR è stato utilizzato davvero in maniera bellissima addirittura, se non sbaglio, il 99% dei casi è stato risolto col VAR dunque finalmente anche in Champions League ci sarà sto benedetto VAR era quasi ora per il momento è tutto ragazzi vi auguro una buona serata sempre fino alla fine forza Juve e ciao a you